E' un'emozione che c'è sempre lo cano più di forte E' un'emozione che c'è sempre lo cano più vicino E' un'emozione che c'è sempre lo cano più vicino E' un nuovo giuventino E' un anno che c'è sempre lo cano più vicino con il numero 7 G con il numero 9 Polibie con il numero 3 G con il numero 2 G Cristian con il numero 14 G Cristian con il numero 23 G con il numero 28 G Cristian con il numero 4 G with Alessandro Eccolo il numero 80, Junos, a disposizione del Mirada. Eccolo il numero 80, Junos, a disposizione del Mirada. Eccolo il numero 80, Junos, a disposizione del Mirada. E allora diventano il momento del merce. Noi siamo Illumina! Eccolo il numero 80, Junos, a disposizione del Mirada. Eccolo il numero 80, Junos, a disposizione del Mirada. Eccolo il numero 80, Junos, a disposizione del Mirada. Eccolo il numero 80, Junos, a disposizione del Mirada. Grazie